La vita è un dono, armi e contraccettivi sono contro, così il pontefice intervenendo oggi agli stati generali della natalità servono politiche più coraggiose in favore della famiglia. Il comportamento della Russia è una reale minaccia per le elezioni europee, dice la Presidente della Commissione von der Leyen, intanto Mosca lancia una nuova offensiva militare nella zona di Kharkiv. Ancora un episodio di violenza contro poliziotti, il secondo in 24 ore a Milano, alla stazione centrale ferito ma non in pericolo di vita, un l'aggressore. Vendite di libri in calo, i dati dei primi mesi dell'anno animano il Salone del Libro di Torino, tengono le librerie tradizionali, il Cardinale Zuppi invita alla lettura dei classici. Buonasera, benvenuti al TG2000, servono politiche più coraggiose in favore della famiglia, Papa Francesco lancia l'appello alle istituzioni durante gli stati generali della natalità, i figli non sono un problema ma una speranza. Cristiana, caricato. La preoccupazione per le culle vuote è entrata anche nella bolla di indizione del prossimo giubileo. Invecchiamento dell'Europa e de natalità non sono le ossessioni di Francesco, come qualcuno vorrebbe, ma il segnale preoccupante di un continente in declino vicino al posto di non ritorno. Il Papa interviene agli stati generali della natalità e capovolge la prospettiva. La vita umana non è un problema ma un dono. Il problema del nostro mondo non sono i bambini che nascono, sono l'egoismo, il consumismo, l'individualismo che rendono le persone sazie, sole e infelici. Francesco tratteggia con amarezza e realismo i confini di casa in cui non mancano i cagnolini ma dove non ci sono figli. Parla di madri costrette a scegliere tra lavoro e bambini, di giovani in affanno con lavoro precario e mancanza di alloggi e poi denuncia. In questo momento gli investimenti che danno più reddito sono la fabbrica di armi e gli anticoncettivi. Uno distrugge la vita, l'altro impedisce la vita e questi sono gli investimenti che danno più reddito. E parlando di politiche di sostegno alla famiglia, il governo archivia il Family Act in attesa di introdurre nuove misure. Nessun rinnovo dunque per il provvedimento approvato due anni fa quando a Palazzo Chigi c'era Mario Draghi. Augusto Cantelmi. Scontri tra polizie e manifestanti che volevano raggiungere l'auditorium a due passi da San Pietro dove era in corso la seconda giornata degli stati generali per la natalità con le forze dell'ordine che hanno respinto con delle cariche il tentativo del corteo di sfondare il cordone ferita alla testa una ragazza e due poliziotti contusi. Alla protesta partecipavano gli stessi studenti dei collettivi che ieri avevano contestato la ministra Roccella. Stati generali per la natalità che si sono conclusi con un dibattito su come conciliare lavoro e famiglia. A discuterne sul palco alcuni dirigenti di grandi aziende tra cui Eni e Nelle Ferrovie dello Stato intervistati dai ragazzi. Intanto e addio al Family Act, la riforma organica del governo Draghi per sostenere famiglie donne e lavoratrici e giovani è stata ufficialmente archiviata dal governo Meloni. La ministra per la famiglia Roccella ha spiegato che la delega al governo per il Family Act è considerata ormai superata poiché il governo in carica starebbe per implementare un proprio piano per le famiglie con la conferma e il rafforzamento dell'assegno unico oltre al buono per gli asili nido, gli sgravi fiscali per chi assume le madri e 60 milioni per i centri estivi. Per le opposizioni invece la decisione dell'esecutivo sarebbe motivata dall'impossibilità di fare propria una riforma proposta dal governo Draghi. Adesso andiamo in Medio Oriente, ore decisive per l'invasione di Rafa centinaia di uomini e mezzi israeliani circondano la città più meridionale della striscia intanto dall'ONU arriva il primo ok all'ingresso della Palestina tra i membri delle Nazioni Unite. Leonardo Possati Una decisione assurda, così il ministro degli esseri israeliano Israel Katz bolla il voto dell'Assemblea Generale dell'ONU sul via libera all'adesione della Palestina come Stato membro e in gesto di polemica fa pezzi la carta delle Nazioni Unite. Il messaggio che l'ONU manda alla nostra regione denuncia Katz è che la violenza paga. La decisione di aggiornare lo status dei palestinesi all'ONU suscita l'Irie d'Israele e fa discutere. A favore del testo hanno votato 143 paesi, tra cui Francia e Spagna. Nove hanno votato contro, mentre in 25, tra cui Italia, Germania, Regno Unito e Olanda, si sono astenuti. Per Mahmoud Abbas, presidente dell'autorità nazionale palestinese, il consenso internazionale a sostegno della Palestina ristabilisce la fiducia dei palestinesi nella legittimità internazionale e incarna il diritto legittimo del popolo palestinese ad uno Stato indipendente, sovrano, con Gerusalemme Est come capitale. Intanto, Arafa, città nel sud della striscia e nella quale, secondo l'esercito di Tel Aviv, avrebbe trovato rifugio un milione e mezzo di cittadini di Gaza, prosegue l'assedio dei carri armati israeliani che hanno preso il controllo della strada principale. Intensi combattimenti si sono registrati durante tutta la giornata. Hamas fa sapere di aver teso un'imboscata ai carri armati israeliani vicino a una moschea. Centinaia di camion carichi di aiuti umanitari sono bloccati sotto il sole da quattro giorni. Negli ospedali i feriti vengono curati con sempre più difficoltà. I più gravi sono attesi in Egitto, ma sono bloccati dall'altro lato dei valichi con Gaza di Rafah e Kerem Shalom, tuttora chiusi sul fronte diplomatico dopo le parole di Joe Biden con le quali avvise Netanyahu che se l'esercito entrerà a Rafah, gli Stati Uniti bloccheranno l'invio delle armi. Il governo israeliano ha comunque votato all'unanimità di proseguire l'operazione e si dice pronto ad adottare un'economia degli armamenti. Adesso la guerra in Ucraina con la Russia che in queste ore sta lanciando una nuova offensiva lungo il fronte nord-orientale nella zona di Kharkiv. Sono in corso combattimenti feroci, dice lo stesso presidente Zelensky. Vito Dettor. L'offensiva russa sulla regione di Kharkiv è iniziata a confermarlo. È il presidente Zelensky che questa mattina, all'alba, ha ricevuto la notizia che l'esercito ucraino era impegnato a respingere l'assalto delle truppe di Mosca. È proprio Zelensky a riferire di combattimenti feroci lungo il confine nord della regione di Kharkiv. Negli ultimi sei mesi bombardamenti russi sulla seconda città del paese si sono intensificati, colpendo soprattutto abitazioni private e centrali elettriche. Secondo i media ucraini, i soldati russi sono riusciti a superare il confine e hanno conquistato quattro villaggi. Gli esperti militari di Kiev ritengono che si tratti di una manovra diversiva dell'esercito russo. Mosca ha commentato l'assalto dei suoi militari nella regione di Kharkiv sostenendo che l'obiettivo è quello di estendere il fronte per indebolire la difesa ucraina. Le mire espansionistiche della Russia preoccupano Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. Il comportamento della Russia è una reale minaccia in vista delle elezioni europee, ha dichiarato la von der Leyen, che poi ha aggiunto vediamo che le interferenze di Mosca sono numerose. È importante che i cittadini europei siano vigili e siano consapevoli di queste intromissioni. Torniamo in Italia con l'inchiesta tangente in Liguria. Durante l'interrogatorio di garanzia al Palazzo di Giustizia di Genova anche il governatore Giovanni Totti si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sentiamo David Murgia. È durato solo qualche minuto l'interrogatorio del governatore della Liguria Giovanni Totti che oggi pomeriggio si è presentato presso il Palazzo di Giustizia di Genova per essere ascoltato dal GIP nell'ambito dell'inchiesta su un presunto sistema di corruzione che ha portato ai domiciliari alcuni imprenditori e all'arresto dell'ex presidente del porto di Genova Paolo Signorini. Il presidente Totti si è avvalso della facoltà di non rispondere. Pochi minuti ha fatto ritorno ad Amelia nello spezzino dove è agli arresti domiciliari. L'accusa centrale per il governatore di Genova è di aver ricevuto Aldo Spinelli 74 mila euro in contanti e varie promesse di finanziamenti tra i soldi per cui è stato chiesto il sequestro preventivo ci sono anche 120 mila euro che S. Lunga avrebbe pagato in pubblicità come contropartita secondo gli inquirenti si tratterebbe di un finanziamento illecito alla lista Totti per lo sblocco di due pratiche pendenti in regione. Sono 10 le misure cautelare e 25 gli indagati che figurano finora nell'inchiesta che avrebbe scoperchiato uno scenario criminoso con favori ad aziende e imprenditori in cambio di voti e anche in trecci con la criminalità organizzata calabrese e siciliana radicata in Liguria ma al centro dell'inchiesta resta la gestione degli affari legati al porto di Genova che sarebbero stati ricambiati con pernottamenti insoliti significa 8 mila tonnellate in meno di merci sparcate rispetto allo Poliziotti ancora vittime di aggressione a Milano ferito un extra comunitario alla stazione centrale il secondo episodio in sole 24 ore Raffaella Frullone Il GIP di Milano Lidia Castellucci ha convalidato e disposto la custodia cautelare in carcere per Asana Miss il 37enne marocchino arrestato per il tentato omicidio del vice ispettore della polizia di stato Cristian Di Martino alla stazione di Milano Lambrate avvenuto con una serie di coltellate mercoledì sera le condizioni del poliziotto ricoverato al Niguarda restano gravi domani subirà un nuovo intervento chirurgico ma nel frattempo Milano ha vissuto un'altra notte di violenza questa volta alla stazione centrale dove un 36enne egiziano ha minacciato di colpire con delle pietre due poliziotti prima di essere bloccato con un colpo di pistola dopo che gli agenti avevano usato il teaser senza riuscire comunque a fermarlo si riaccendono così i riflettori sul tema sicurezza a me personalmente non è mai capitato niente però suppongo che insomma un pochino più di attenzione ci debba essere conosco ragazze importunate a me per fortuna no siamo abbastanza preoccupati per questo dobbiamo sempre stare attenti perché non è ben frequentata come sono tutti è una zona questa difficile ovviamente perché è molto frequentata c'è molta gente che passa di tutte le qualità per cui cosa vuol che le dica noi io abito qui non ho mai avuto problemi devo dire per cui non mi lamento in modo particolare vedo però che è difficile tenere in ordine una zona come questa il sindaco della città chiama in causa il governo e afferma l'immigrazione serve ma i decreti di espulsione vanno eseguiti replica stretto giro il sottosegretario all'interno Molteni che annuncia l'intenzione dell'esecutivo di dotare il capoluogo Lombardo di un nuovo CPR rilancia dicendo al di là delle polemiche strumentali è necessario procedere con i rimpatri degli immigrati irregolari problematici il presidente Mattarella ha partecipato al teatro massimo di Palermo al 36esimo congresso dell'associazione nazionale magistrati dal titolo magistratura e legge tra imparzialità e interpretazione nel suo arrivo è stato accolto lo sentite in una standing ovation e da un applauso durato alcuni minuti il presidente dell'associazione Santa Lucia contro la riforma della magistratura sempre meno e sempre più ignorati dalle istituzioni questo l'allarme lanciato dagli infermieri italiani a ridosso della loro giornata nazionale che è in programma per domenica prossima Francesco Durante stipendi sotto la media europea scarse prospettive di carriera aumento dei rischi legati alla sicurezza negli ospedali con 130.000 aggressioni in media all'anno sono alcuni dei motivi che scoraggiano chi vorrebbe intraprendere la professione infermieristica sempre più preziosa nel sistema sanitario italiano che avrebbe bisogno di oltre 20.000 infermieri in più rispetto agli attuali 460.000 per gli stessi motivi c'è anche chi preferisce spostarsi all'estero 6.000 solo nel 2023 a segnalarlo sono proprio gli infermieri in vista della giornata internazionale ad essi dedicata che si celebra il 12 maggio quest'anno sul tema nutriamo la salute nel nostro paese quindi si prevedono sempre meno infermieri non valorizzati come si dovrebbe e con retribuzioni non adeguate ai carichi di lavoro massacranti che devono affrontare per sopperire alle carenze di organico ulteriori difficoltà poi per le infermiere madri secondo un recente sondaggio più della metà di loro per questioni economiche rinuncia all'astensione dai notturni o al congedo parentale e il 33% lamenta l'incompatibilità degli orari dei nidi con i turni di servizio perciò quanto più si abbassa il livello di soddisfazione del professionista sanitario nel suo ambito lavorativo fanno notare le associazioni di categoria tanto più viene minata la qualità dell'assistenza offerta ai pazienti da qui l'appello alle istituzioni e al governo se la sanità pubblica deve essere difesa occorre anzitutto tenersi stretti i suoi infermieri invogliando i giovani attraverso la valorizzazione e il riconoscimento anche economico della loro professionalità torniamo a parlare del prossimo giubileo la cui bolla di indizione è stata consegnata ieri dal Papa alla Porta Santa della Basilica di San Pietro sarà aperta la vigilia di Natale di quest'anno Rita Salerno l'esperanza ha bisogno ciascuno di noi le nostre vite talvolta affaticate e ferite i nostri cuori assetati di verità di bontà e di bellezza i nostri sogni che nessun muoio può spegnere la speranza è il principio ispiratore dell'anno santo 2025 i temi che più risuoneranno nel giubileo saranno pace con dono dei debiti dei paesi poveri sostegno alla natalità rispetto del creato e accoglienza per i migranti nella bolla di indizione dell'anno santo Papa Francesco auspica la creazione di un fondo per abolire la fame nel mondo e l'impegno della diplomazia al servizio della pace per evitare la distruzione del pianeta non mancano poi appelli per detenuti poveri anziani e giovani tutti pellegrini di speranza come recita il tema centrale di questo giubileo all'insegna di novità a cominciare dall'apertura di una porta santa in carcere a Darillà l'anno santo sarà l'apertura della porta santa della basilica di San Pietro il 24 dicembre 2024 quella di San Giovanni in Laterano avverrà la domenica successiva 29 dicembre mentre il 1 gennaio 2025 sarà la volta della porta santa di Santa Maria Maggiore il 5 gennaio toccherà invece alla porta santa di San Paolo fuori le mura queste ultime tre saranno chiuse entro domenica 28 dicembre 2025 l'anno santo terminerà il 6 gennaio 2026 con la chiusura della porta santa di San Pietro il popolo di Dio deve essere in prima linea per rispondere al grido silenzioso degli innumerevoli poveri del mondo soprattutto in Africa e nel Sahel per dare loro voce davanti a tante ipocrisia e tante promesse non mantenute questo l'appello di Papa Francesco in un messaggio inviato al cardinale Michael Cerny in occasione dell'evento di commemorazione del quarantesimo anniversario della fondazione Giovanni Paolo II per il Sahel al quale partecipano membri dell'attuale corpo diplomatico e rappresentanti delle istituzioni internazionali e nazionali vendite di libri in calo dall'inizio dell'anno numeri negativi anche per la narrativa dedicata ai ragazzi una questione che in queste ore anima il Salone del Libro di Torino Samerio Simonelli come al solito al Salone del Libro si ragiona anche sui dati dell'editoria perché per esempio si può dire che nei primi quattro mesi del 2024 l'editoria italiana ha fatto registrare un lieve peggioramento attorno al 2% ma invece un dato che fa veramente molto incoraggiante è quello che riguarda le librerie fisiche che sono oltre il 50% del mercato nonostante la grande offerta del digitale ed è anche questo un segno di come sia e rimanga importante il contatto tra il libraio e il lettore ma soprattutto il contatto che attraverso le pagine del libro avviene tra chi scrive e chi legge e molto spesso si tratta di persone che hanno bisogno l'una dell'altra perché la letteratura in questo caso è capace di andare nel profondo del cuore del lettore e nel cuore di ogni uomo diceva Gian Manzoni ma chi legge lo sa che la letteratura ci apre degli spiragli che forse la saggistica non riesce che fruga meglio dentro il cuore dell'uomo che esperienza è per lei anche come pastore confrontarsi con queste pagine? Beh ci ritrovi tante pagine della vita cioè la grandezza di tutti e due di Dostoevsky di Manzoni la grandezza di chi rappresenta la vita e te la fa poi ritrovare ritrovi tanti episodi tante tante storie tantissime sofferenze che poi nell'interno di tanti incontri che per il ministero ma anche di tanti incontri che facciamo sono così frequenti e forse leggeli ci aiuta anche a ricapirli Discriminati perseguitati e deportati tantissimi giornalisti gli scrittori ebrei che hanno subito l'oppressione del regime fascista alcune delle loro storie rivivono ora in un volume Antisemitismo di carta questo è il titolo frutto di ricerche e ricostruzioni grazie agli archivi storici della fondazione Murialdi e grazie al sostegno dell'ordine dei giornalisti Alessio Orlandi Minacce condizionamenti discriminazioni fino alla perdita del lavoro e alla deportazione è la sorte toccata a tantissimi giornalisti scrittori e intellettuali ebrei vittime delle persecuzioni del regime fascista e delle leggi razziali le loro storie oltre 100 sono state raccolte nel volume Antisemitismo di carta al centro del quale ci sono anche temi di stretta attualità come il rapporto tra stampa potere democrazia identità vicende intense drammatiche spesso rimosse che fanno riflettere anche sulle responsabilità dei giornalisti in epoca fascista quando la stampa nazionale divenne una delle espressioni più emblematiche della trasformazione totalitaria del regime e il principale motore della campagna antisemita su cui si reggeva uno di questi giornalisti per fare un esempio Edoardo Ricchetti romano le sue pietre d'inciampo sono davanti all'abitazione sua e della moglie a Via Flaminia era un giornalista dell'Italie un giornale di vecchia tradizione monarchica italiana che fu deportato e morì all'arrivo ad Auschwitz appena sbarcato dal treno un lavoro a più mani frutto di ricerche e ricostruzioni tra gli archivi storici e le carte della fondazione Murialdi e dell'ordine dei giornalisti con cui è stato possibile ricostruire anche il contributo dato dal giornalismo italiano al regime mussoliniano soprattutto dopo il delitto Matteotti fino ad arrivare nel 1928 al giuramento di fedeltà dall'inpoi ai cronisti inclusi quelli di origine ebraica fu riservata solo emarginazione persecuzione ed espulsione dall'albo le discriminazioni che l'odio sono sempre forieri di pessime risultati che non sono solo condannabili in senso generale come presa di posizione etica ma sono drammatici per le conseguenze per la stupidità per la cattiveria che l'essere umano riesce a esprimere in queste situazioni e con questo è tutto vi ricordo dopo di noi il film Casa Shakespeare grazie per averci seguito buon proseguimento di serata a tutti grazie